Bentornati amici sul nostro canale di Firefly Tabern House, oggi vi presentiamo questo bellissimo gioco Don't Get Gut, non farti beccare, è un gioco semplicissimo nel quale si basa su determinate sfide dove avremo dei portafogli da tenere dentro queste bellissime tessere che vi facciamo vedere ed eccola con scritto cosa dobbiamo fare e se riusciamo a portarla a termine oppure veniamo scamati. Abbiamo una carta bonus che è una supercazzola che ha solo l'obiettivo di essere portata a termine quindi è solo un bonus in più e ovviamente questo portafoglio che si piega lo si può tenere con sé perché questo appunto gioco non ha un limite di tempo può durare come una settimana mesi anni dicono e lo scopo di questo gioco è portare a termine almeno tre sfide su queste otto che possono starci dentro. E come si fa? Si fa che praticamente bisogna tenere nascoste queste carte più la supercazzola, loro dicono cinque carte normali e una supercazzola e ognuno appunto dovrà avere in mano una carta nera. Non bisogna mai svelare queste carte come dice il regolamento e soprattutto attenzione non bisogna mai abbassare la guardia perché? Perché se il gioco si protrae col tempo e si vuole creare una chat di gruppo con dentro i partecipanti in modo da ricordarsi se è stata fatta una supercazzola, se è stata fatta una missione o viceversa. Lo si può appunto tenere aggiornato tramite così. La maggior parte delle missioni sono molto vaghe quindi bisogna essere molto creativi per non farsi beccare perché qualora si viene beccati e ad esempio come in questa cosa scriviti qualcosa, penna su una mano e fai sì che un giocatore lo lega ad alta voce, magari se lo giocate e lo intavolate la sera stessa è palese che venite sgamati e se venite sgamati dovete mettere beccato e quindi una missione è già andata banale. Ma se siete furbi e durante l'arco di tempo che vi vedete vi capiterà e vi viene in mente di fare questa cosa allora è l'obiettivo. Viene portato a termine, si mette yes e si infila così dentro qua. Se l'obiettivo invece viene sgamato, come vi abbiamo detto, si mette beccato. Quindi qua dentro noi avremmo una, due, tre, quattro, cinque manche più una supercazzola e su queste cinque, tre, dobbiamo portarle a termine. Staccano ovviamente nella nostra onestà a mettere se stiamo cercando di fregarlo, altrimenti se no il gioco non ha molto senso. Diciamo che ci vuole molta, molta fantasia. Intavolarlo in una sera, non è detto che bisogna per forza giocare solo a questo. Come vedete noi dopo prepariamo Horrified e magari incominciamo a dare cinque missioni, siamo in tre, quattro, e nel mentre giochiamo a Horrified. Non è detto che a ognuno venga in mente di provare a fregare l'altro. Bisogna ovviamente restare sia concentrati sul gioco che si sta portando avanti e magari anche su questo gioco. Ora, il gioco è sempre stato fatto in lingua inglese, questo in italiano. Le carte vanno tenute nascoste, ovviamente questo è il proprio portafoglio. Tenersela a mente tutte è un po' difficile perché ovviamente non tutte le persone possono ricordarsele, quindi il consiglio che noi vi diamo è magari fare una foto al portafoglio perché prestarlo a qualcuno c'è il rischio che magari lo perda, si dimentica, vanno perse le carte. Lì si fa una foto e ognuno lo tiene per sé. Quando si ricorda che è stata fatta questa determinata missione, allora lo può scrivere su un gruppo, per quello che abbiamo consigliato un gruppo WhatsApp. Se invece riuscite nella determinata sera o nell'arco della giornata a farne più di uno o più di due o farne tre, avete vinto il gioco. Semplicissimo, abbiamo tre mazzetti nel quale due. Abbiamo dentro le carte missione e qua le supercazzole. Ovviamente le supercazzole sono tutte uguali, nere. Non ci hanno scritto nient'altro, basta fare una supercazzola. La supercazzola per chi non sapesse cosa fosse è, diciamo, un modo per farsi rispondere a determinate domande con eh, chi, cosa, la classica magari frase mangiata che uno non è attento e ti dice eh tu gli fai questa supercazzola. E... diciamo che è una carta in... un bonus in più. Se venite beccati che state facendo una supercazzola, non dovete mettere beccato, ma semplicemente non va... non va messa in porto, quindi quella viene esclusa e dovete provare a rifarla su un altro giocatore. Dentro le carte supercazzole abbiamo questa, e ve ne facciamo vedere un'altra, dove fa in modo che un giocatore aggiusti qualcosa per te. Ora, alcune sono veramente quasi al limite dell'improbabilità o dell'assurdo, perché vi dovete trovare davvero in situazioni di questo tipo, però non è mai detto che nulla sia impossibile. Come questa, fate ripetere a un giocatore e la stessa cosa per tre volte. Diciamo che ce ne sono dentro di vari tipi, di varie difficoltà, e... e niente, questo è il gioco, è un gioco veramente semplice, divertente, dalle aspettative, e... come... cosa possiamo dirvi? Ci sono missioni che possono essere più difficili delle altre, e se ci sono missioni che ritenete troppo difficili, a mio onesto parere, le potete cambiare, magari decidete prima, non guardate le altre carte, però che ne so, ne volete cambiare due, pescate due carte, e se quelle sono, quelle sono, non ne chiedete, no, ne cambio ancora una volta, facciamo tre cambi, no? Perché, come vi ho detto, dentro ce ne sono davvero di assurde o anche di più semplici. E... e niente, la missione è completata, come vi dicevo, torna sul verde, quindi mettete gli assi. Se venite beccati, e sta ovviamente la vostra pura onestà, ammettere che state cercando di fregare qualcuno, solo con le missioni gialle mettete beccato. Il primo che arriva a tre, vince. Questo è Don Get Gut, in versione italiana, questo è il suo unboxing, con i tre pacchetti di carte, i dieci portafogli, portacarte, dove avete comunque scritto cosa bisogna fare, tre regoli semplici, vince chi per primo porta a tre, mi ne tre missioni. Se qualcuno ti becca mentre stai cercando di fregarlo, dovrai essere onesto e girare la carta su beccato, e non potrai ovviamente più usarla, non puoi fallire la carta su percazzola, quindi provaci e riprovaci finché qualcuno non ci casca. Basta. Questa è una carta in più, che non vi farà permettere di prendere un bonus. Però ecco, questo è il gioco, fatto veramente bene, semplice, minima, le regole sono veramente due pagine, come potete vedere, vi spiega tutto, e niente, restate sintonizzati perché, come avrete visto, magari lo si è intravisto qualcosa, vi porteremo il gameplay di Horrified, più che gameplay, scusate, l'unboxing. Se il video vi è piaciuto, avete domande o comunque avete curiosità, noi l'abbiamo ordinato su Amazon, il gioco è questo, scriveteci nei commenti, ricordateci e ricordatevi soprattutto di seguire la pagina su Instagram, Firefly Tabern House, e niente, questo è il video, ciao ragazzi.